Però io vedo anche il rovescio della medaglia, il rovescio della medaglia è quello che è successo ad Eraclea ieri, dove i signori che abbiamo accolto, che abbiamo aiutato, che siamo andati a prenderli da una zona di guerra, siamo andati a prenderli dalla Libia, hanno buttato giù dalla finestra i pasti perché non erano di loro gradimento. Allora io dico, caro signore che arrivi da una zona di guerra, ma tu dove vivevi? Ma tu vivevi in un albergo quattro stelle? Ma tu cosa mangiavi? Mangiavi quello che ti viene dato in un albergo tre o quattro stelle? Ma tu avevi la televisione al plasma che stai chiedendo in questo momento? Avevi il cellulare di ultima generazione che stai chiedendo in questo momento? Allora, io... E allora la domanda che faccio è quella a questi signori, quello che può dare l'Italia è questo, o vi accontentate o tornate da dove siete arrivati. Allora...